A proposito, comunque il boss se ripò per me è troppo forte, quindi di sicuro non lo farò ora. Maledetto. Mi ha attaccato alle spalle. Oh my god, parliamone. Ora ti sono a tosso. Ah, bravo Pippo. E la cuore del piede di ferro è finita al tappeto. Un che magia. Ah, qui è meglio uccidere prima i cosi verdi. Ah, pensi... Pensi che sia così stupido, eh? No, dai scherzo. Lo so che non gli faccio niente, eh. E vai. Ok. Ragni e magia. Lo so che hai cosi... Che ha quelli gialli, non li facevo niente. Che sai? Hai detto... Ok, guarda questo. Ho guadagnato un po' di esperienza perché ho usato... No, ma ho usato il gaccio contro quelle lentes di fuoco. Vai. 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 Comincio. Dai, vai forza che sto dando un casino. Questo è quello che abbiamo affrontato, eh... Nel livello di Tarzan. Ah, ah. Questa volta l'ho schivato. E la pelva è andata all'altro mondo. E anche lentes. Ok, Paperino fa finta di trafingersi con il... Con lo scettro, eh. Altri nemici, altri morti. Stai fermo, codardo. Sta fermo, codardo. Ok. Paperino fa i pugni. Per vedere quanto è muscoloso. Cioè, è una schiappa. No, dai, scherzo. Poverino. Oh, no. Oh, no. Sta fermo, d'andà. Sì. No, dai. Voglio picchiarti. mi hai rotto le palle dove sei? ah, è morto se non sbagliavo ce ne erano due ecco c'è albero ah, giusto che questo invece non salta penso fa questo ah, te l'ho messa in quel ah, te l'ho fatta non mi hai fatto, hai usato un sacco di colpi hai usato un sacco di colpi però mi hai mancato no, non cade vai vai ha 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 anzi ho un'idea fate così, guardate ok urca no, 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 no no, 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 no fermo no, fermo fermo cagnolino, fermo cagnolino, fermo dannazione entra no, 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 no no, 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 no ah, ok 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 ha te l'ho fatta ti ho pure ti ho pure fatto male ok ah, fio ha ha te l'ho fatta sono tu sono sulla tua schiena sono sulla tua schiena ha trovi che colpito con una combo ahia vai ok colpisci mi con la testa intendo e vai guardate che continuo a colpirla papà papà anzi interrompiamo qua perchè il DVD sta a finire il video la memoria sul video sta per finire però ricontinueremo co ricontinueremo fra po' se per 2 1 1 1 1 1 2 2